Ciao a tutti da Joker Game, faccio l'ultima consegna. Ecco, questo qui, io penso di averlo fatto, ristrutturato, però non sono sicuro. Guardate cosa costa, qua c'è già un milione, un milione e tre, un milione e otto, quasi due milioni. Ok, appena, perché ho fatto dei video, ma non sono ancora pubblicati e quindi, e quindi devo, quindi devo rivedere queste cose che ho fatto, perché se è stato fatto non le pago due volte. E lo lascio perdere, per il momento, perché sono due milioni, non è poco. Ok, è elaborato. E' elaborato, anche qui. Ehi, c'ho le casse, qui, che mi proteggono. Comunque le macchine, anche loro, secondo me, ci marciano sul gioco. Con la scusa che sparano, dicono che impazziscono, ma io non li vedo impazziscono, io vedo che ti vengono addosso. Ti vengono addosso apposta, verso il marci. Vabbè, ci sta, perché, che armi ha la Rockstar, quello che spara dietro. Quindi, questa storia, ci sta. Non li puoi dire, anche loro, dovevano usare, quando voglio gioco, la loro carta. Non li puoi dire, anche loro, dovevano usare, quando voglio gioco, la loro carta. E con questa qui, è l'ultima consegna dei, praticamente, sono quattro, vediamo la mappa, prima che chiudo il video. Allora, quello centrale, l'house, è solo per le moto, sembrerebbe così. Per vendere le moto. Non ho visto nessun carico, dentro lì, niente, niente. 162 l'ho preso, ecco, vediamo la cartina, quanti sono sti magazzini. Allora, torniamo indietro. Allora, questo qua è Clubhouse, che è solo per motociclette modifiche, vende. Uno, poi... Guarda, mi sono scherzo... Scusate, eh. Allora, torniamo... Torniamo a rivedere il tutto. Stavo dicendo... Clubhouse è la sede centrale, diciamo, chiamiamola così, via. E fa soltanto garage e vende moto. Sembrerebbe così. Questa è l'erba. È uno. Poi il secondo... E' questo qui. No, è questo qui. Che è l'ufficio documenti. Il terzo è questa qui, la menta... Vediamo cosa dice. La metanfietamina. E' il quarto. E' questo qua. Anzi, ce sono cinque. Il quarto è questo. Che è per fabbrica banconote. E il quinto che ho preso è questo qui. Ecco, che ho appena fatto adesso. Garage della cocaina. Quindi io... Sono cinque. Uno, due... Tre... Quattro... Cinque. Stabilimenti più la sede. Sei. Ok. Vendita effettuata. Al prossimo video. Ciao a tutti.